Siamo con Federica Favaretto, allenatore di Aurora e Vittorio Volley, seconda classificata del torneo Under-14 interprovinciale maschile, un tuo commento sulla gara di oggi, terminata 3-0 per Volley Treviso, ma che la tua squadra ha giocato fino all'ultimo? Sì, sono orgogliosa comunque della mia squadra, tutto l'anno abbiamo lavorato bene, complimenti a Treviso, sono superiori, sono stati superiori loro, ho visto una bella partita, bel gioco ma sono felice comunque. La tua squadra ha ricevuto complimenti anche dagli avversari, non è un caso che anche due i tuoi giocatori tra una settimana saranno in campo per il torneo, il trofeo delle province Under-14, quindi un bel risultato anche per la società e per la squadra. Certamente mi fa piacere aver ricevuto i complimenti dall'altra squadra e li ricambio assolutamente e ripeto che anche avere due atleti in selezione è un orgoglio non solo per me ma anche per la società perché comunque veniamo un po' ripagati del lavoro che stiamo svolgendo e stiamo lavorando bene. Avanti 7-0 nel primo set, anche i tuoi ragazzi hanno detto non ci credevamo, forse ci siamo un po' rilassati quasi. Sì, è vero perché non è mai successo sinceramente, quindi è vero, hanno spiazzato anche me sinceramente, ero sorpresa.